E queste sono le condizioni della casa, qua la parete non c'è, abbiamo messo noi delle assi e delle porte giusto per chiudere, non c'è nessun pannello, ci sono una specie di isolante che non isola niente, questa è la porta, questa è la nostra porta. Questa è la nostra camera, con la porta, riesco a attraversare la porta, i nostri vestiti, temperatura mattino, 6-7 gradi a volte 5, l'esterno, la casa all'esterno, acqua, la parecchia, le taniche, questi sono i pannelli, non fissati, non fissati, passa una salata di vento, La panica qui l'avevamo messa noi, per non far cadere, come cadeva, quello è il bagno, la cabina senza porta, Questo bip, è il frigo, che non ha abbastanza energia, perché adesso mi tocca staccare la spina, Quindi stacchiamo la spina, Adesso funziona, perché il frigo, come mi hanno detto, non tiene, andiamo al bagno, Sto per far vedere solo le condizioni della casa, La porta del bagno è staccata, Questo è il bagno, questo è il bagno, Questo è tutto, almeno, quanto riguarda la casa, Il resto, ancora peggio, Ciao a tutti!